Vediamo ora come creare un documento usando dei layout di disegno esistenti. Questo è il nostro disegno, il nostro progetto, quindi dobbiamo creare dei layout. Notare che siamo nello spazio modello. I layout di base di un nuovo disegno sono layout 1 e 2. Noi aggiungiamo un terzo e possiamo sempre comunque cancellare questi primi due di default. Quindi strumenti, autocomposizioni, crea layout. La creazione di layout è una serie di pagine che facilitando il processo mi aiutano e creano anche un layout personalizzato. Per prima cosa mi chiede il nome, io mantengo layout 3, avanti. Come seconda mi chiede, come potete vedere sono circa 8 passi, il plotter di tutti i plotter installati nel sistema, seleziono il design jet 430 che è una 0, cioè che arriva anche la 0 e mi chiede il formato. In questo caso non voglio avere un formato molto grande, seleziono un A3 420 per 200, quindi praticamente un A3 orizzontale. L'unità di disegno sono i millimetri, avanti, orizzontale, perfetto. A questo punto mi chiede il cartiglio, i cartigli sono già predefiniti e io scelgo un cartiglio classico di un A3. Lo scelgo anche come blocco interno, quindi con un sistema che volendo posso anche poi modificarlo. Avanti, mi chiede quante viste, allora io voglio una serie di viste, le righe, cioè quindi io voglio due finestre, allora una riga e due colonne, la spaziatura è circa 5 mm fra le colonne e fra le righe. Che scala? Allora ho già calcolato, e so per esperienza, che più o meno il disegno è un A20, un disegno che mi serve. Poi comunque lo cambieremo, quindi vedremo anche come modificare la scala. Avanti, a questo punto mi chiede di selezionare la posizione, io seleziono una posizione, disattivo lo snap, adesso una posizione che è circa posizionata qua, poi chiaramente le finestre le posso benissimo modificare e ok. Questa è la mia impaginazione. Sposto, prendo il mio oggetto, lo centro rispetto al mio foglio, poi comunque posso sempre farlo meglio in un secondo momento. e queste qua sono le mie due finestre, notare che sono nello spazio carta, adesso attivo lo spazio modello, all'interno di questa finestra io posso anche cambiare la scala di visualizzazione, per esempio facendo uno zoom. è ovvio che uno zoom in questo modo è uno zoom non calcolato, infatti se io vado a verificare adesso la scala di questa finestra, che è quella che avevo impostato, destro, finestra, destro, proprietà, mi compare questa che è la finestra delle proprietà. se vado a vedere nelle varie, la scala standard di quella finestra di visualizzazione è 1 a 20, se attivo questa finestra, come si può vedere lo posso anche modificare, io attivo quella finestra, vado a controllare la scala, è personalizzata, posso anche definire adesso un altro tipo di scala, ad esempio, se era 1 a 20, per esempio 1 a 10, seleziono lo spazio modello, faccio uno zoom e quindi esca, se mi interessa fare uno zoom su questa parte del disegno, questa è la vista 1 a 20 e questa è una vista di 1 a 10. come, ritorno in spazio carta, seleziono la finestra, come posso vedere, 1 a 10 questa, esca, e 1 a 20 questa scala.